delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io carissimi amici delle nostre trading room ben ritrovati all'interno del canale di alfa for all italia io sono paolo quest'oggi purtroppo non mi vedete in video perché ho avuto qualche piccolo problemino con la webcam che a breve sicuramente andrò a risolvere però ovviamente non ci sono in video ma continuiamo a parlare parliamo come sempre un po' delle nostre amate azioni quest'oggi lo facciamo in rapporto con interactive broker broker che vedete come sempre utilizzato un po' sia da me che da tutti gli altri miei colleghi e compagni e parleremo proprio di un programma che ci offre interactive broker che permette di mettere a rendimento i titoli azionari che deteniamo in acquisto long all'interno del portafoglio questo programma si chiama stock yield enhancement program vi faccio vedere come funziona come si attiva utilizzando il mio conto reale il mio account management perché dal mio punto di vista è importante parlarne in questo momento perché appunto un mercato sempre un po' sulle montagne russe sempre più difficile per chi lavora in azioni ci sono chiaramente degli spirali e delle buone opportunità ecco per portarsi a casa dei rendimenti però questo già questa attivazione ecco di questo programma ci può appunto rendere qualcosa a livello passivo che ovviamente non fa mai male prima di arrivare a tutti i dettagli vi ricordo come sempre di sostenerci di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per essere aggiornati su tutti i nostri nuovi video e in più prima di arrivare alla piattaforma vi do un piccolo consiglio per chi di voi si sta approcciando o già lavora con Interactive Broker perché all'interno del nostro canale trovate dei video molto molto vecchi qua si va indietro addirittura fino al 2017 come impostazione di video e come programmazione nella nostra playlist trovate dei video tutorial da un minuto proprio su Interactive Broker ci sono tantissimi video nel canale visto che è da tanti anni appunto che la utilizziamo questi in particolare sono molto brevi e davvero vi possono essere molto utili arriviamo ora alla piattaforma di Interactive Broker eccoci qua con il mio conto privato, il mio conto reale per andare a spiegare appunto questo programma questo Stock Yield and Unspend Programme che permette appunto di mettere a rendimento i titoli azionari che deteniamo long all'interno del portafoglio qua nella pagina che vi ho ripulito per questa puntata trovate solo qua i due ticker di Amazon e Google tra l'altro Google molta attenzione poi ne parlerò anche nelle prossime settimane perché a breve anche lui farà lo split quindi farà il frazionamento delle azioni sicuramente poi farò un video dedicato appunto a questa tematica però non ci dilunghiamo perché oggi parliamo appunto di questo programma di rendimento prima di arrivare all'attivazione però vi faccio vedere intanto come si inserisce la colonna per vedere il tasso di interesse che ci viene restituito o che comunque andiamo in un certo senso a pagare per un'altra funzionalità e poi vi faccio vedere sull'account management come si attiva in particolare intanto andiamo a inserire la colonna insieme bisogna andare alla voce più in alto che trovate tra le vostre colonne ad esempio io prendo la voce ultimo faccio tasto destro faccio inserisci colonna prima di ultimo e sulla parte destra mi sposto verso la voce vendita allo scoperto e successivamente tasso commissione poi vi chiede se volete applicare la funzione a tutte le pagine che avete all'interno della vostra piattaforma del vostro layout oppure eventualmente solo a questa io ad esempio faccio sì che così lo applico a tutti ed eccolo qua il tasso commissione allora in realtà questo che vedete qua è il tasso commissione su base annua che noi andiamo a pagare quando vendiamo allo scoperto un titolo azionario chiaramente questo valore è da moltiplicare su quello che è il conto valore nominale che noi andiamo a muovere ok quindi ad esempio facciamo un investimento da 3000 dollari o 3000 euro in amazon dobbiamo moltiplicare lo 0,25% su base annua quindi il risultato su base annua è quello che noi paghiamo per il prestito delle azioni che eventualmente andiamo a shortare in questo caso quindi per la vendita allo scoperto stiamo parlando vi faccio notare subito una cosa tendenzialmente quando noi andiamo su titoli comunque molto utilizzati quindi dove abbiamo tanti volumi o comunque titoli sicuramente conosciuti questo tasso commissionare soprattutto se vogliamo shortare è un tasso molto basso come potete vedere chiaramente un tasso che noi paghiamo perché sapete che non possediamo le azioni quando vendiamo lo scoperto qualcuno ce le deve prestare in questo caso chiaramente c'è un'altra controparte ecco nel mondo che ci va a cedere proprio le sue azioni e questo è il nostro il nostro pagamento quindi dicevo questi titoli un po' più conosciuti hanno questo tasso relativamente basso se andiamo su altri titoli un po' meno conosciuti adesso mi viene in mente ad esempio Aparvest AAPH se non ricordo male il ticker no ho sbagliato APPH eccolo qua esattamente azioni smart eccolo qua guardate questo è proprio il classico esempio che tendenzialmente faccio un po' a tutti i partecipanti del nostro trading club azioni questo è un titolo che tra l'altro noi deteniamo il portafoglio all'interno del nostro corso nel nostro percorso di formazione e come potete vedere è un titolo non quotato da tanto tempo è un titolo che sicuramente può avere dal mio punto di vista delle buone prospettive per il futuro però qua se noi volessimo shortare vendere lo scoperto Aparvest paghiamo sul controvalore nominale questo 25.06% ok arriviamo adesso invece alle cose belle cioè a quello che ci fa invece guadagnare senza far nulla in questo caso questo dato dobbiamo sempre controllare questo dato e vi spiego il perché mettiamo il caso come ho fatto io all'interno del percorso in questo caso ad andare ad acquistare per dire non so 300, 400, 500 azioni di Aparvest visto che comunque è un prezzo molto ridotto dal punto di vista di prezzo battuto in questo momento se voi ci fate caso questo valore è un valore che a noi diciamo che si ribalta diventa vantaggio in questo caso non tutta la cifra intera ma la metà del valore che noi in questo momento abbiamo e visualizziamo qua all'interno della piattaforma vi spiego il perché perché la metà ci verrà restituita ci verrà fornita da Interactive Broker per il prestito titoli quindi se c'è una controparte che vuole andare a shortare a questo titolo siamo noi che lo prestiamo fondamentalmente e quindi noi incassiamo la metà di questo valore sempre, vi ricordo, su base annua sempre su base annua sarebbe chiaramente troppo facile prendiamo tutti i titoli e poi in base a chi li cerca li prestiamo e li incassiamo solo in maniera passiva quindi la metà la prendiamo noi la metà ovviamente se la prende Interactive Broker quello era chiaramente palese perché ci offre appunto un programma gratuito per cui diciamo che andiamo un po' a fare a smezzo ecco se così si può dire tra noi e il broker però è una cosa molto interessante perché appunto quando noi andiamo a lavorare soprattutto su questi titoli che magari abbiamo un obiettivo sul lungo termine ne prendiamo parecchi davvero possiamo avere degli ottimi rendimenti come facciamo ad attivare questo programma? bisogna andare all'interno della voce conto prendere la voce gestione conto home e successivamente sarete rimandati all'interno del sito dell'account management di Interactive Broker ed eccolo qua che ce l'avete in sovrappressione dovete andare poi sulla sezione diciamo del vostro account in questo caso in alto a destra dove c'è l'omino andate sulla voce poi impostazioni eccola qua e sarete rimandati all'interno di questa pagina il programma di cui vi parlo è il seguente il programma di ottimizzazione del rendimento delle azioni io vedete che già ce l'ho attivo vedete qua il 50% che andrete ad ottenere ripeto sempre su in questo caso il dato che vi viene mostrato sul tasso commissione questo dato come dicevo prima va comunque moltiplicato per il controvalore nominale che andiamo a muovere è chiaro che più pezzi abbiamo di azioni chiaramente più incassiamo non aspettatevi ovviamente di avere dei super rendimenti i rendimenti poi li potete controllare li vedete giornalmente all'interno sempre dell'account management dovete in questo caso controllare alla voce performance e resoconti o rendiconti all'interno della voce dell'attività c'è proprio la parte degli interessi del prestito titoli che troverete proprio come una voce separata all'interno dei vostri report interattivo che era la quale non sfugge nulla bene questo è stato un video un po' più particolare però secondo me è davvero molto attuale molto interessante un po' per tutti voi io vi ringrazio come sempre per l'attenzione aspetto chiaramente vi aspetto tutti all'interno del trading club azioni in particolare domani avremo il classico laboratorio operativo ci rivediamo proprio anche in faccia magari la prossima settimana che così andiamo a parlare ancora delle nostre bellissime azioni ciao a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti